Preparate pane e burro, che arriva la marmellata. Chi cavolo siete? Chi cavolo sei tu? Io sto qui. Da quando? Da ieri. E Dante Crosciani? Se n'è andato. Dove? Posso dire che non mi sento molto a mio agio? Ok. Ok. Volete un caffè? Dorzo c'è. Dante è partito per il giro del mondo. Starà via almeno per un anno. Bastardo. Dove adesso? Ci devo un sacco di soldi. A Sidney, credo. Merda! Merda, merda. Dove già che si trova Sidney? Forse in Canada. Come forse? In Canada e in America, no? Ah, ah, buh. Non ho capito bene chi siete. Io mi chiamo Scorpio. In ogni quartiere c'è qualcuno che comanda. Qui comandiamo noi. Non succede niente se non lo vogliamo noi. Buono però questo caffè. Grazie. Noi adesso andiamo. Noi adesso andiamo. Se hai notizie di Dante, è molto meglio per te se ce le dai. C'è una posta nella buca. Magari è meglio che la prendi, sennò te la rubo. Non mi chavo. Non mi chavo. Noi adesso andiamo. Non mi chavo. Grazie.